andiamo all'aereo amore paella a fronte mare oggi è paiettata ci buttiamo dall'aereo amore amore buongiorno questo è il vlog del sotterfugio della sorpresa e del segreto perché Jimmy compie questo sabato 30 anni parlo sottovoce ma lui non è in casa stranamente infatti è la cosa più difficile tutto questo perché siamo perennemente insieme ma è riuscito a correre ma sicuro tornerà fra un minuto quindi se mi vedete chiudere abbiamo organizzato insieme ai suoi amici un viaggio a sorpresa quindi partiremo domani pomeriggio sera venerdì andremo in spagna il suo compleanno è sabato e poi torniamo la domenica per domenica io ho un paio un servo delle sorprese ma non le dico neanche a voi quindi il fatto è che lui sa che i suoi amici li stanno organizzando qualcosa però io non glielo volevo dire gli volevo fare proprio la sorpresa del tipo nessuno ti sta organizzando niente sei una persona triste senza amici però vabbè loro glielo hanno voluto dire perché figuratevi perfettino e precisetti era lì che allora il primo compleanno possiamo fare questo 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 e i suoi amici non so più cosa fare vabbè comunque la cosa che io ho un pochino sdeviato è che lui non sa bene dove come cosa quando e io gli ho detto che il venerdì sera domani sera è mio cioè gli organizzavo io qualcosa con i suoi amici qua di Milano ok e quindi invece domani sera partiamo quindi la mia idea è quella di riuscire a fargli una valigia in realtà uno zaino non abbiamo nemmeno un troll perché proprio un giorno mettendogli i suoi vestiti il problema è che Jimmy è cioè è troppo è maniacale sui vestiti se lui non indossa le cose che vuole lui poi va in sbatta ognuno ha le sue e poi soprattutto il mio problema più grande in realtà sono gli occhi lui ha le lenti a contatto e ha diecimila liquidi infusi cose pastigliette non lo so perché io non le ho e quindi è un casino ma la cosa più difficile è appunto l'abbigliamento quindi io tra oggi e domani voglio prendere delle cose dal suo armadio metterle in macchina sperando che lui tra così in questi due giorni non le cerchi e poi una volta domani arrivati in aeroporto farò tipo fare una sorta di creare il tuo outfit quindi questo è il vlog dove vi vi porto con me durante l'organizzazione e la realizzazione del compleanno di Jimmy che vi giuro ansia da prestazione tanto pressing ma perché voglio che sia bello per lui è è dov'ixão quindi io si è fatto un outfit con questa camicia gli ho fatto una foto per replicarlo quindi ma che si può avere i 300 paio di jeans nella vita? io ne ho uno e ma come sta? questi con l'acqua in casa sto mettendo tutto in questa borsa ma tipo ho preso due paio di jeans delle cinture ma chi mette le cinture? sono facendo degli outfit carini a me piacciono, a me non piacciono però gli appienamenti mi spiegheranno buongiorno, questa cosa vi giuro, cioè farla in casa è difficilissimo cioè nel senso farla con lui in casa comunque ho portato, ho appena portato mentre lui era in bagno una sacca piena dei suoi vestiti in macchina ora qui ho uno zaino con la mia roba vabbè, in qualche modo lo devo un po' confondere e devo uscire per andare in palestra con due zaini sperando che non mi cacchi di pezzo sono riuscita a trovare anche le cose per le lenti ora sto pensando di fare dei bigliettini dove si farà tipo il sole dei giorni se non mi sarei più orato in palestra con due zaini si? no questo è il tuo outfit non c'è, non è opinabile cioè va bene così, punto ti metti questo ma non mi sta quella camicia perché ce l'hai allora? e perché in teoria non mi avessi tua no, no, ti sta mia no, tra tutto allora, ad abbinare le scarpe che camicia vuoi? un'altra quale? è giusta quella azzurra? sì e poi è sbagliata quella è una sotto quella è una camicia sì, da sotto camicia questa? ah, da sotto camicia allora, blu se vuoi c'è questa vabbè, prenditene una da abbinare alle scarpe altrimenti quella blu di velluso questa? no eh, non lo so vai, questa blu posso cambiare i pantaloni con questi? no eh, no, dove sono i pantaloni? ma sono eh, i pantaloni con i risvoltini no, questi no, i risvoltini eh, no, non i risvolti no, allora 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 aspetta aspetta no, no ho detto che ti devi mettere quelli non mi interessa sono cizzo no no allora non è no ho detto no aspetta aspetta dove sono? che casino senti allora no no smettila dattina dattina dove sono? ma dove me l'hai messo? dai, non ho messo via nulla mi hai nascosto allora c'è un cambio te lo sei portato via allora Jimmy Jimmy ti devi mettere quelli sì ma no dai mi tappo gli occhi no no non ho fatto niente io non so di che pantaloni stai parlando ma allora allora a parte che io ho mal di pancia atroce quindi c'è tipo quel bottone aperto oggi mi devo venire ok l'aspettavo esattamente non me l'aspettavo per il tuo compleanno allora si fa un gioco allora si fa il gioco sei quanti pancia allora devi pescare o uno o l'altro questo determina il tuo weekend quindi pesca bene se pesca una cosa quante possibilità due o questo e quello quindi ora aspetta 50 e 50 allora già qui si vede se ho fortunato oppure no scegli spero che non vabbè devi no io guardo te bravo o sopra o sotto vedi come sono bravo io bravo non guardare guarda me dai scegli ma non l'hai lo stai tenendo troppo scusa scusa leggo ok aereo chi c'è c'è aereo andiamo a prendere un aereo indolleile indolleile vabbè ora se ti portavo da qualche altra parte capivi direzione aereo direzione aereo direzione aereo quindi andremo a prendere un aereo raga io ho pescato l'opzione aereo non so qual è l'altra opzione che era l'una una vicella a spazio macchina ma cava vabbè macchina siamo qui era più comodo si scelgo questo invece no bello bello amici quindi te non sei compresa vabbè io sono anche amica ok lei è amica lei è questo ho selezionato amici l'altro è la fidanzata quindi io devo andare via non mi hai pescato ok continuo è che volevo usare una tattica a a ora forse sceglierò la b io so cosa prendere a a b allora la destinazione è un gioco è un anagramma un anagramma più o meno so cos'è l'anagramma caviale e ok ora caviale ah manca una lette e l'anagramma allora io non l'ho mai capito come si fa però la lettura dell'anagramma no amore l'anagramma è un le stesse lettere possono creare altre parole ah però ma con una lettera hai detto dimmi qual è la lettera ma vabbè dai ora ale ale cavi ale cavi vi caviale viale viale ca viale ca anche in clavi comunque nel dubbio forse ti può essere d'aiuto no sì invece ancla ancla dammi in clavi cazzo è l'estrazione guidata in clavi ok in clavi ma le dau mix a tutte tutte sì devi rigirarle ah in dove no vi in dove no no cena con il cena albi vi val valenza 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 si va a valenza si va a aereo zainetto amici valenza si va a valenza si va a valenza che cazzo dici si va e che ci si fa all'area ci sono bisogno andrà indossi va indolle l'aereo indolle indolle si va a valenza si va a valenza quindi si va da giamma beh ora lui ci sarà spero non siamo noi in italia per me ti immagini però c'è un ultimo l'ultima estrazione ora guidamela bene allora io ho fatto a pesco b e b e sotto ok no 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 la messa sotto la messa sotto eh mai vestiti i pantaloni secondo me jeans ce l'ho di ricambio perché me l'ha presa lei io non l'ho trovata i jeans stanotte mentre dormivi il tuo armadio si è trasferito anche il mio infatti ora dobbiamo cazzo brava non me ne sono accorto però e dormivi ora dobbiamo fare gli zaini finalmente si può vestire zaini fatti ho portato tutto si stava brava chiamo i toscani chiamo i toscani chiamiamo gli amici grande amore belle parole cazzo oddio 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 me l'ho fatto forte grande cizia grazie non sto cercando cosa ti aspetti nulla no sto guardando in terra apposta vabbè ora cammina dritto siamo in un po' ho capito posso guardare anche te non c'è bisogno di guardare davanti non sa nulla non sa nulla non sa nulla cos'è che figata cos'è spettacolo paintball cazzo che schettacolo praticamente uno dei migliori amici di jimmy vive qua a valencia quindi ci siamo tutti riuniti con i suoi migliori amici qua e oggi hanno organizzato una giornata per festeggiarlo e si inizia con paintball ovviamente io studiatissima sull'outfit bianco anche io sono vestito no andrà benissimo no se il paintball è un disastro ci spariamo ci sono tanti tipi di paintball entro così no guarda io mi sono preso paura a cucina quando sono vinto anche perché mi sono preso paura vedendoti poi mi sono resuto sei sudatissimo abbastanza come è stato? bella scaricata via adrenalina madonna ti è piaciuta questa tv bella bella abbiamo vinto due contro tre abbiamo vinto arriva la parte migliore della giornata oh vai fai le foto eh così poi bella hai visto che foto che ha fatto Gino? e va anche a giro con la canottiera e il baffo come freddie mercury madonna schiaccia bellissima siamo in mutia a giocare un pochino a pallavolo con gli amici di di Giamma l'amico di Jimmy e ora andiamo a pranzo che ridere che vibes qua qualcuno ha detto paella fronte mare paella fronte mare sali in piedi sulla sole avete finito di fare foto ho fame no bellino dai no no io vado a fare tanti auguri a te uno numero uno che meraviglia amore questa scritta è dedicata a te bellissimo che bello questo tacos vegano con scramble di tofu normali polca pesce marinato dovevi dividerlo con Diego comunque quella di se lo usa tutto quella quello in tigre ma dovevo fare un video i bagni questi sono i lavelli adoro profondamente oggi è paillettata i mochi si sballon sono che cicosi si allora faccio qualche giorno ancora una cinesinia per un comore terminano così trenta ore di fuoco Jimmy male male eh ho pegnato bravo a casa mia si dice fai tappo che devo fare siamo in un campo siamo in un campo sì di patate direi allora ma neanche il mio regalo non è il pranzo ok e è alla termine di questo che ti leggo ok per la maggior parte dei tuoi vent'anni hai fatto ciò che era giusto fare seguendo per certi versi un percorso già scritto oggi all'inizio dei tuoi trent'anni ti faccio l'augurio di vivere la vita affrontando il rischio buttandoti a capofitto senza pensarci troppo oggi all'inizio dei tuoi trent'anni e dopo aver passato insieme tutti i tuoi venti sono sempre più sicura di voler esplorare il mondo con te dal profondo del mare fino al cielo che ne dici quindi di passare da meno diciotta a quattromila oh mio dio ci buttiamo dall'aerio oh mio dio oh mio dio ok devo andare a fare la bibigra ok che figata che figata dai andiamo 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 lo stiamo facendo davvero lo stiamo facendo davvero non ci sto pensando se ti parlano sicuramente lo rendi per cui se non mi senti non ti devi preoccupare non ci sto pensando non ci sto pensando Grazie a tutti 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 E quindi vi faremo un'altra sorpresa Poi basta Poi il compleanno è finito Andiamo in pace Stasera si fa festa E' uscita a sgattagliare fuori per andare a prendere L'ingrediente delle pizze perché ho pensato di prendere Tipo siamo in set ho preso 12 pizze bianche Margherita E poi si condiscono tutti Si mettono tantissimi ingredienti E Jimmy non c'è sembra ignaro totalmente Boh forse non ha capito allora C'ho il cuore che batte a mille Oddio un'altra sorpresa Adoro fare sorprese Mi sta piacendo questo gioco Vediamo che ho giusto mezz'ora Il callo è fuori dal pollaio La cosa che mi fa ridere È che l'ho lasciato Che stava facendo lavatrici E gli ho detto Fai le verdure per favore E mi fa Senti ma se lascio tutti i vestiti Non da lavare qua Che va bene lo stesso Io Sì sì Ho i panni sporchi per terra Sarà meraviglioso Mi sta chiamando Arriva arriva mi sta chiamando Ho i panni Grazie a tutti.